Salve a tutti chi è qui Francio, bentornati in un nuovissimo video Bentornati finalmente dopo tantissimo tempo su Brawl Stars Sono davvero contento di essere tornato su questo gioco Quindi veramente sono felice e sono anche emozionato perché è da tantissimo tempo che non lo porto sul canale Sono cambiate un sacco di cose sul gioco Quindi anch'io sono un po' in confusione, sono cambiate tantissime dinamiche E' cambiato un po' il concept di gioco Perché le partite sono molto più rapide, più veloci e molto più competitivo Quindi è davvero una sfida Comunque ragazzi vedrete che a breve sbloccheremo lui che non mi ricordo in realtà come si chiama Però non ce l'avevamo appunto tra i nostri brawler Quindi poi nel prossimo video lo proveremo Niente ragazzi allora vediamo un attimino gli eventi Ok allora vi parlo un attimino del Brawl Stars Prima di questo però vi invito a dare un'occhiata alla descrizione E niente vi ringrazio di tutto il supporto che state dando al canale Perché davvero è tantissimo Stiamo raggiungendo dei risultati mai visti prima E quindi sono davvero davvero contento E' per questo che ho deciso di portarvi dei nuovi video, dei nuovi format Scusatemi per la voce però sento che stamattina ho il naso un po' chiuso Quindi parlo un po' nasale però vabbè Comunque ho notato che il Brawl Pass è davvero costosissimo Cioè 12 euro io non mi ricordo che un Brawl Pass costasse veramente così tanto Quindi non lo so Poi non è niente di emozionante Quindi ho deciso di non spendere né le mie gemme né appunto i soldi Perché non è niente di emozionante Magari per la prossima stagione Se i video di Brawl Stars andranno bene Potrei anche pensarci Però se ne parla tra 31 giorni e 2 ore Comunque ragazzi Vediamo di fare qualche missione Allora sconfiggi i 9 nemici con Penny Mi sa che è troppo lunga Magari lo faccio io off camera Proviamo a vincere 8 battaglie con Bea E nel frattempo fare un po' di missioni in sopravvivenza in 2 Ok perfetto Ci facciamo qualche partita ragazzi E vediamo un po' come va Tanto lo sapete che quando si registra le partite vanno sempre male Cioè è fisso È fisso questa cosa Comunque Poi tutti hanno i nomi tipo colorati Vabbè Sono forti Gli altri sono forti Io scarso però lo devo accettare Lo devo accettare Ok Questo brawler come compagno di squadra Mi piace Quindi Aspettate 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 Ok Quindi l'ho fatto fuori io Almeno mi conta la kill Ok Qua non l'ho beccato per niente Qua pure Ok 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 va bene Però l'ho killato Però l'ho killato Ci contano almeno 2 kill Ok vediamo se il mio compagno di squadra Riesce a tenere lontano Oddio mi devo Mi devo ribassare i nomi dei Dei brawler Scontro finale però Vediamo se Se c'è la possibilità di vincere Ah forse è respawnato Ok ok è respawnato È respawnato Dai 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 Oh perfetto Vittoria reale così Bellissimo 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 Dai siamo stati bravi Siamo stati bravi Abbiamo completato tante Tante cose E rigiochiamo ancora Perché Questo compagno Mi è piaciuto Mi è piaciuto Anche perché io vado Dalle distanze È lui proprio Nel pvp Dalle botte Quindi ci piace Ci piace Ci facciamo quest'altra partita Tanto ormai Dobbiamo completare Questo Questa cosa Di sconfiggere 9 nemici Con Bea Ok Io ragazzi Lo seguo Lo seguo Perché comunque Mi devo guardare Un po' Le spalle Ok Ci siamo Qua ho sbagliato io Dovevo prendere la mira Ah qua pure Eh no 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 Ok ok Colpa mia Colpa mia Ho sbagliato sia Il tiro sulla sinistra Che il tiro a destra Infatti lui Non ci vuole più giocare con me Capita ragazzi Capita Ci facciamo un'altra partita Qui Nelle Nella sopravvivenza in due Poi se in caso ragazzi Ci spostiamo In un'altra modalità Anche se penso che Bea Nella sopravvivenza in due Sia Sia molto efficace Perché comunque Lei ha bisogno di qualcuno Che Che le guardi le spalle Quindi Vediamo Vediamo Qui sotto Possiamo fare qualcosa Sì 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 Assolutamente Ok perfetto Non so se mi ha fregato Entramme le kill Penso di sì però Vabbè intanto Ci portiamo a casa Anche un po' di Di coppie Che male non fanno Ok Facciamo un po' Prendiamo un po' Tutte queste Tutta questa energia Aspettate che Il Joy Bud Se n'era andato Ok Allora vediamo un po' Qua c'è un Dynamike Molto pericoloso Dynamike Quindi vediamo di Allontanare il più possibile Qui ci sono altri nemici Ok scontro finale Prendiamo l'energia Ok E vediamo Io cerco di Tenere lontano Dynamike Sulla destra Perché comunque È molto pericoloso Non so dove sia In questo momento Sinceramente Sinceramente Non so dove sia Eh no Devo aspettare lui Devo aspettare lui Perché Se no Dynamike Mi fa fuori Tempo zero Veramente Ah eccolo qui Eh però Lì in quella posizione Ci uccide Fondamentalmente Vabbè comunque Abbiamo 12 cose di energie Ragazzi Cioè Allora Lui ha aspettato Che il suo compagno Le spawnasse Ed effettivamente Ci sta come cosa Ok dai L'ho killato Facile Easy easy Kill facilissima Mi è piaciuto Anche questo compagno Di squadra Vediamo se Vuole rigiocare Io sinceramente Vorrei rigiocare Con lui Perché Ci sta Mi è piaciuto Ok Rigiochiamo insieme E abbiamo completato Anche Ci siamo portati avanti In realtà Anche su Abbastanza obiettivi Solo che Mi ha fregato Veramente Tantissime kill Lui Mi ha fregato Almeno Almeno 2-3 kill Quindi È un buon compagno Di squadra Ma frega le kill Diciamo Ok Allora Vediamo di prenderci Questa cassa Di energia Qua ho sbagliato Ok va bene Lui ha Pochissima vita Il mio Il mio compagno Va bene Lui ormai È andato È andato È andato È andato Devo cercare Di sopravvivere Fino al suo respawn Non sarà facile Non sarà per niente facile Però Me ne devo andare Raga Me ne devo andare Non tutte le partite Possono andare bene Intanto Vediamo di Ok Aspettiamo il suo respawn In modo tale che anche lui Si prenda Questo cubetto di energia Perfetto Ok Lui è felice Che ovviamente L'ho aspettato Beh Sai com'è Da solo Non Non credo Ok Oddio Non ho visto Che Non ho visto Scontro finale Però Siamo già allo scontro finale Eh vabbè ma Dico Io ho 5 cubetti Di energia Però comunque Loro sono in 2 Non è facile Non è facile Io posso anche provare A fargli dei danni Posso aspettare Ovviamente Ma Non è facile Non è facile Non è facile Vediamo se No no C'era il cactus Ragazzi C'era il cactus Non potevo fare niente Non potevo fare niente Ah Qua era troppo lontano Qua era troppo lontano Vediamo un po' se Me lo indebolisce Ho sbagliato io Ok Oh Bello Bellissimo Non me l'aspettavo Pensavo fossero esporati Il suo compagno Invece ragazzi Abbiamo fatto Veramente Veramente Delle partite Assurde Siamo saliti anche di grado Con Bea Vediamo se Se Questo qui Rigioca un'altra partita Eh Vabbè Che dite La rigiochiamo Sì ce ne rigiochiamo un'altra Anche se Anche se la perderemo Perché Per legge Delle probabilità Ci sta a perderla È un'altra Cioè ci sta a perdere La prima in realtà Del video E Niente Lui non rigioca Quindi andiamo Palesemente A perdere questa partita Però intanto Sono contento Perché vi ho completato Tanti obiettivi Ci siamo portati avanti Su alcuni E E poi vi ho portato Anche delle vittorie Nel primo video Che registro Dopo tanto tempo Di Brawl Stars Quindi non è Non è scontata Come cosa Io vado subito A prendermi Quest'altra energia Ok Vediamo se mi da una mano Ok Perfetto Comunque L'audio del gioco Ragazzi Lo tengo basso Preferisco Dare priorità Al Al microfono Anche se la mia voce Oggi non è il massimo Ma Va bene così Ok Io penso sia dovuto Ragazzi All'allergia Che È ovviamente Una compagna Fedele Ok Vediamo un po' L'ho rallentato Ok Sono riuscito a fargli Un bel po' di danni Il mio compagno Intanto non fa niente Come è giusto che sia Ma vediamo se Ai mi ha colpito però Mi ha colpito Ok Questa volta Questa volta Mi uccide Eh sì Perché il mio compagno Va a fare battaglia Non so dove Non so perché E quindi Mi uccidono È ovvio Eh vabbè Vabbè Lui è un camperone Non mi piacciono i camperoni Ragazzi Non mi piacciono Perché fondamentalmente Non ci si diverte Io ho capito che Brow Stars In questo momento Sta diventando Veramente competitivo Infatti ci hanno Arati malissimo Sta diventando Molto competitivo E molto veloce Bisogna essere pronti Bisogna essere veramente Pronti a reagire Pronti a essere aggressivi Vediamo un attimo Cosa abbiamo sbloccato Super raro Vero Diamo un po' Ah ok 51 Comunque ragazzi Vi ringrazio Di aver visto il video Vi ricordo di lasciare un like Se vi è piaciuto Di iscrivervi al canale Di attivare la campanella Ricordatevi di guardare Tutti i miei link In descrizione E niente ragazzi Noi ci vediamo Al prossimo episodio E a un prossimo video Ciao 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 ciao